Allora le statistiche sono ovviamente importanti perché ci aiutano a capire poi com'è andata meccanicamente la partita Allora le statistiche... Zitti! Zitti lo dico io, ha capito? Prego, prego Cagliari Brescia 0 a 1 Del Brescia segna Donnarumma al 54esimo sul rigore Allora il tiro totale del Cagliari 14 del Brescia 10 Tiri in porta del Cagliari 4 e 2 del Brescia Possesso a palla 59% del Cagliari e 41% del Brescia Passaggi 478 del Cagliari e 339 del Brescia Precisione dei passaggi 79% del Cagliari e 66% del Brescia Falli commessi 10 del Cagliari e 12 del Brescia Ammunizioni 2 del Cagliari e 2 del Brescia Espulsioni 0, fuori gioco 2 del Cagliari e 7 del Brescia Calci d'angolo 8 del Cagliari e 8 del Brescia Volevo dire due cose Allora volevo fare i miei più sinceri complimenti e i migliori auguri per Sinisa Mialovic Che nonostante la sua malattia è entrato in campo a allenare la sua squadra Volevo dire l'ultima che secondo me la squadra c'è E l'unico problema della squadra è l'allenatore Allora torniamo a vedere